Allora, buongiorno a tutti, grazie per la presenza, grazie soprattutto al professor Rabuschka, cui penso che possa e debba andare il nostro primo e più lungo applauso perché è arrivato appositamente per noi dagli Stati Uniti. Grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 a vedere su internet, ho visto che siete un partito di giovani e quindi ancora di più vi aiuto volentieri. E questo mi ha molto colpito, sono rimasto davvero straordinariamente colpito e mi ha detto se avete bisogno io ci sono. Abbiamo lavorato un anno insieme per dare forma a un progetto che fosse sostenibile per l'Italia, perché la FLECTAX, sapete, è applicata in 38 paesi del mondo. Dopo un anno oggi siamo in grado di avere un progetto fattibile e concreto che sia in grado di dare delle risposte al nostro Paese. Siamo qui per parlare di una rivoluzione fiscale, ma prima ancora di parlare di numeri dobbiamo parlare di una rivoluzione culturale, perché introdurre il concetto di un'aliquota unica significa bypassare tutti i retaggi ideologici che hanno condizionato il nostro Paese negli ultimi 70 anni. Abbiamo una Costituzione che all'articolo 1 dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ma non chiarisce chi sono i lavoratori. Così io mi trovo in un dibattito in televisione con qualcuno della sinistra che mi dice che i commercianti non sono lavoratori, che gli artigiani non sono lavoratori, che gli imprenditori non sono lavoratori. Perché quando non si fa chiarezza a volte si dà spazio a tanti equivoci, a tante barricate, all'uno contro l'altro. Oggi è il momento in cui ci ritroviamo però tutti sulla stessa barca, mi sembra. L'articolo 53 della nostra Costituzione stabilisce che il nostro sistema tributario è informato a criteri di progressività. Bisognerebbe capire che cosa significa, perché se il sistema tributario è informato ai criteri di progressività, non vuol dire che solo l'imposta diretta è informata ai criteri di progressività. Vorrebbe dire che io quando vado dal benzinaio, secondo di quanto guadagno, dovrei pagare di conseguenza un libro di benzina. Allora vedete come le cose poi non sono così come appaiono. Noi siamo a parlare di una rivoluzione fiscale perché questo sistema progressivo a 5 aliquote non funziona, se no non ne parleremmo. Noi siamo a parlare di una rivoluzione fiscale perché questo sistema è incomprensibile all'80% e più della cittadinanza. Nessuno sa come funziona. Aliquote, scaglioni, oneri deducibili, trattenute alla fonte, sostituto di imposta e chi più ne ha più ne metta. Non è chiaro a nessuno quanto lo Stato trattenga, ma di sicuro è chiaro per tutti che lo Stato e il fisco ha sempre ragione con noi e noi abbiamo sempre torto e siamo sempre in difetto in qualunque circostanza. Allora questa cosa deve finire. Noi abbiamo bisogno di avere un fisco che ci possa regalare chiarezza, limpidezza e soprattutto comprensione. Tutti dobbiamo sapere quanto diamo allo Stato. Noi viviamo in uno Stato dove noi dichiariamo quanto guadagniamo allo Stato, lo Stato si alimenta della nostra energia, del nostro lavoro e io invece penso che al contrario dovrebbe essere lo Stato a dichiarare lui che cosa fa con il nostro lavoro, con i nostri soldi, con i nostri sacrifici. Questo sistema fiscale e questa aggressione, questa arroganza che soprattutto l'Agenzia delle Entrate e i suoi gregari hanno nei confronti di chi lavora in questo Paese, soltanto nel 2013 ha portato a 149 suicidi per motivi economici. La stampa non ne parla ma le cose vengono. Voi sapete l'onta morale, il condizionamento psicologico che questa situazione crea in tantissime persone. Guardate che, ed è sotto gli occhi di tutti, le nostre città stanno diventando dei cimiteri a cielo aperto, le serrande dei negozi sono sempre più chiuse e intorno abbiamo la desolazione. Quando a 50 anni tu ti rigiù la serranda e non sai fare altro, dove vai a lavorare? E quando ti trovi tutte le cartelle d'equitaglia da pagare perché non hai potuto provvedere al pagamento delle imposte? Ti bussa qualcuno e ti dice non me ne frega niente, lei deve pagare e se i soldi non ce l'hai che cosa fai? Ecco, di questo che probabilmente il governo si dovrebbe occupare. Invece mentre noi siamo qua a parlare di come risolvere questa cosa, il governo mi sembra che stia progettando un nuovo aumento dell'IVA che sembra che la porti al 25%, ma perché è normale chiaramente, perché in questa situazione di recessione e di stagnazione, per avere più soldi e più tasse, tu non puoi fare altro che aumentare la leva fiscale, non hai altra scelta. Noi invece proponiamo l'esatto contrario, ecco perché la FLECTAX. La FLECTAX o se preferite aliquota unica, intanto agevolerebbe la comprensione, come ho detto, visto che noi abbiamo un Paese che ha 138.101 tra leggi normative, direttive, delibere, di tutti i generi, di tutti i tipi, a ogni ordine e grado del livello della burocrazia e dell'amministrazione dello Stato. Abbiamo soltanto 1.800 leggi fiscali e naturalmente viviamo in un Paese dove si dice che la legge non ammette ignoranza. Quindi a questo punto mi sembra di capire che siamo tutti in libertà provvisoria. Non è più tempo delle mediazioni, non è più tempo delle cose dette a mezza voce, non è più tempo per gli inciuci, è tempo del coraggio. Ecco perché ringrazio Matteo per averlo avuto questo coraggio. È tempo di invertire la tendenza e l'aliquota unica rappresenta oggi una grande occasione per l'Italia di far ripartire la nostra economia, la nostra industria, di far emergere quei 400 e passa miliardi di euro di sommerso che sono un terzo del nostro PIL nazionale e che grazie all'introduzione di un'aliquota unica, come ci spiegherà dopo il professor Rabuska, emergeranno già il 50% fin dal primo anno. Stiamo parlando di un sistema che è applicato in 38 Paesi al mondo. Non stiamo parlando di un sistema che nessuno ha mai sperimentato, stiamo parlando di un sistema che funziona. Il problema è culturale, è di pensiero, è ideologico, non è un problema di numeri. Io ho sentito qualcuno che ha fatto un po' di minestrone con i dati, un minestrone anche un po' acido perché non conosceva quali erano effettivamente i numeri e non conosceva tra l'altro la nostra proposta di Flectax. Qualcuno che probabilmente ha difficoltà con il cambiamento e che pensa è che il cambiamento riguardi sempre gli altri. C'è un po' questo atteggiamento, per cui io già quando avevo dieci anni mia nonna aveva il televisore in bianco e nero, guardavo e sentivo parlare la politica che ci voleva un cambiamento. Poi dopo 30 anni sento dire la stessa cosa, ma naturalmente questo cambiamento riguarda sempre qualcun altro. Allora ho fatto un esperimento un po' di tempo fa, sono andato in Corso Buenos Aires a Milano e ho interrogato quelli che passavano e ho chiesto, scusa tu sei gli altri? E lui dice no, io sono io. Insomma ho fatto diverse domande ma nessuno era gli altri, tutti erano io. Allora dove sono questi altri? Ma sono in un posto inesistente in realtà perché purtroppo quello che c'è fuori è lo specchio di quello che siamo. Siamo un paese in cui alle sei del mattino comincia il primo ad andare al bar e dire questi italiani non cambieranno mai. Poi arriva un altro e dice questi italiani non cambieranno mai. Poi arriva un altro e dice ah questo popolo non cambierà mai. Ah gli italiani non cambieranno mai. A mezzogiorno sono passati cento italiani che hanno detto che non cambieranno mai. Allora mi chiedo da dove debba partire questo cambiamento se non da un pensiero, se non da un fatto culturale, se non da il coraggio davvero di cambiare un po' anche se stessi perché ce n'è bisogno se no non ci troveremmo in Parlamento un tizio che dice fatti i fatti tuoi, pensa alla pensione tua, che tanto qua sono tutti malviventi. Qualcuno facendoci i conti in tasca ha detto che il nostro sistema non funziona perché mancano cento miliardi. Non so come abbiano fatto i conti in realtà. Questi cento miliardi dove l'hanno preso non lo so, anche perché il gettito totale delle imposte dirette in Italia è 160 miliardi. Non è che se abbassiamo dal 15 al 23 possono mancare cento miliardi. Poi hanno avuto anche il coraggio di dire che sono 60 milioni le persone che dovranno avere una deduzione di 5.000 che non so chi gliel'ha detto visto che noi la deduzione l'abbiamo a 3.000 quindi probabilmente hanno messo lì dei numeri un po' a caso. In ogni caso tenendo, non tenendo conto del fatto che le deduzioni già esistono. Cioè sulla base imponibile degli 805 miliardi di euro su cui si calcola l'imposta già esistono le deduzioni. Non è che le introduciamo noi così to court. Noi abbiamo pensato alle deduzioni, soprattutto in particolare, poi ve lo spiegherà meglio anche Borghi e ve lo spiegherà anche Rabusca, per le famiglie. Abbiamo pensato al reddito familiare, abbiamo pensato di agevolare le persone e le famiglie che hanno i figli. Abbiamo introdotto un meccanismo che cerca di venire incontro anche ai dettami dell'articolo 53 della Costituzione perché noi questa cosa la vogliamo fare subito. Non è che ne parliamo e basta, non è uno slogan preelettorale anche se le elezioni non si sa se ci saranno o meno. Noi questa riforma la vogliamo fare subito. Non mancano i soldi. Si tratta, se vogliamo vederlo, in termini nominali di una variazione di 35 miliardi di euro. Allora se è vero che abbiamo 400 miliardi di sommerso. Ed è vero, come ci spiegherà il professor Rabusca, che già dal primo anno potrà emergere già il 50% di quei 200 miliardi tassati al 15% sono 30 miliardi di euro. Vogliamo pensare anche di cosa succederà sulle imposte indirette, perché nessuno ne parla. Se la ricchezza torna a circolare invece di essere drenata tutta dallo Stato che è un'idrovora che la succhia. Che cosa succede? Voi pensate, anche voi stessi, il vostro corpo, se voi mettete un laccio al collo è chiaro che il sangue fluirà più rapidamente verso il cervello, ma le altre parti del corpo che fine fanno? Vanno in cancrena. Non è quello che sta succedendo? Non è quello che vediamo e a cui assistiamo tutti i giorni? Questa economia, il nostro paese, sta andando lentamente in cancrena, perché i terminali non sono alimentati, perché l'ossigeno non arriva le cellule e quando l'ossigeno non alimenta le cellule il corpo muore. È questo che probabilmente qualcuno si augura per il nostro paese. Allora se i conti ci sono e c'è l'emersione di quello che è il 50% del sommerso, dobbiamo pensare che tutte queste risorse andranno in giro e si trasformeranno in cose? In consumi. Se si trasformano in consumi, che cosa vuol dire? Che lo Stato attraverso le imposte indirette recupera il 22% su questi 40 miliardi. E allora abbiamo altri quasi 10 miliardi di entrate. Non solo, ma i consumi che cosa creano? Creano nuova produzione, perché se io compro di più, l'azienda produce di più. Se l'azienda produce di più, che cosa fa? Assume di più. Se assume di più, che cosa succede? Aumenta la base imponibile, perché io ho più occupazione, più disponibilità economica e più risorse su cui fare una tassazione unica per tutti al 15%. È veramente facile, Matteo diceva se la capisco io la capiscono tutti, ma lui l'aveva già capita e mi auguro che veramente possa arrivare a tutti con grande semplicità. Un'aliquota unica per tutti al 15%, ciascuno potrebbe farsi la dichiarazione a casa. Togliamo i tomi, togliamo tutte quelle che sono le varie normative, le varie detrazioni, deduzioni, aliquote e tutto il resto. Il motto di questa iniziativa è tutti pagano, ma tutti pagano meno. Paghiamo tutti, paghiamo meno. Questo è il motto della nostra iniziativa. Poi naturalmente ci sono anche i più diffidenti, ci sono quelli che dicono che tanto gli italiani non cambieranno mai e che diranno figurati se l'emerso torna, figurati se questo 50% poi alla fine possiamo tassarlo, eccetera. Abbiamo anche un piano B volendo. Noi abbiamo presentato, grazie al gruppo della Lega Nord al Senato, un emendamento. Ringrazio la senatrice Comaroli e Tosatto che hanno firmato questo emendamento, la legge di stabilità, che naturalmente poi in aula ovviamente questo governo bruccerà, perché voi sapete che da 12 anni l'agenzia delle entrate ha 600 miliardi di crediti che deve esigere e che non può naturalmente esigere, perché oltre l'80% di questi sono completamente inesigibili. Però fa comodo scriverli a bilancio da qualche parte. Voi sapete che le nostre agenzie tributarie ci costano 6 miliardi l'anno. 6 miliardi l'anno. Allora di questi 600 miliardi circa il 50% sono debiti di piccoli contribuenti, persone che non hanno grandi capitali, non sono evasori, è gente che ha dichiarato che non può pagare. Allora noi abbiamo presentato un emendamento e abbiamo detto, scusate, visto che questi soldi non li prenderemo mai, togliamo questo peso da addosso a questa gente, restituiamoli un po' di dignità, proponiamo un saldo estralcio dal 10 al 25% a seconda delle condizioni in cui queste persone si trovano, se hanno perso la casa, se hanno perso il lavoro, se si trovano in difficoltà eccetera e aiutiamoli a tornare a vivere, perché è questo che la politica dovrebbe fare invece di continuare a parlare solo di se stessa e basta. Allora questo è il piano B, il piano B vale 30 miliardi. Allora vedete che alla fine è solo una questione di volontà politica, non è una questione di numeri, è una questione di coraggio e c'è chi il coraggio lo ha dimostrato come Matteo. Questa è una battaglia, lui lo sa, perché abbiamo coinvolto su questo anche Berlusconi, anche se sul discorso dei numeri, poi il professore più o meno credo che l'abbia convinto sul 15%, ma il tema è comune a tutto il centro-destra, perché noi dobbiamo poter offrire un'alternativa, noi ci stiamo occupando di costruire un'alternativa a questo governo, al governo Renzi e la FLECTAX credo che contribuirà ad unire le posizioni di ciascuno. Lavoriamo al fianco di Matteo, che oggi all'opposizione sposa la FLECTAX al 15% e domani da capo del governo ne farà la nuova realtà fiscale che tutti noi meritiamo, perché vogliamo vivere e non continuare a sopravvivere. Grazie a tutti. E ora con grande piacere cedo la parola a Claudio Borghi, che è il responsabile dell'economia della Lega Nord e che mi ha dato una grande mano. Mi fa molto piacere essere qui e mi fa piacere perché è noto una differenza rispetto al passato. Chi magari mi seguiva come editorialista su Il Giornale, non l'Unità, sa che io scrivo di FLECTAX dal 2006 circa. E nel di mezzo il proprietario del Giornale è stato anche al governo con una discreta maggioranza. Ma chissà perché non la faceva mai. E io continuavo a scrivere. Facciamola, facciamola. Eppure non veniva mai fatta. Chi bisognava aspettare perché il dossier venisse preso in mano in maniera finalmente realistica e concreta fino a farne una presentazione di punto ufficiale del programma, guarda caso lo stesso che, sempre per quello che riguardava altri punti che io così scrivevo perso nella notte, vale a dire primo fra tutti l'euro, ha deciso che forse c'era un fondo di verità. forse quello che si faceva era sbagliato. Andare avanti a copiare la sinistra sulle cose che faceva lei però dicendo ma però noi facciamo magari un pochettino meglio, un pochettino meno. Non ci portava da nessuna parte. E invece è arrivato uno un po' matto, ma in realtà di quella follia che tutti noi abbiamo bisogno di avere ogni tanto. Perché altrimenti il germe del conformismo, il germe del... ma tanto non si cambia mai. Il germe, così come correttamente Armando ha detto prima nell'intervista, devono cambiare gli altri. Prima o poi cambieranno gli altri. Alla fine ce ne vuole uno che sappia iniziare lui a cambiare le cose. E quindi quando è arrivato Matteo Salvini le cose sono cambiate e vedete che non sono cambiate e non cambieranno solo per la Lega Nord. Cambieranno per tutta l'Italia. Perché per una volta abbiamo una persona che invece di dire ma tiriamo avanti dice le cose le ribaltiamo come un calzino. Perché questo paese non ha bisogno di piccole correzioni, ha bisogno di una rivoluzione. E questo è quello che vogliamo fare. Quindi quando la prima volta abbiamo iniziato a elaborare quello che avrebbe dovuto essere poi dopo il programma economico della Lega Nord insieme con Matteo Salvini abbiamo disegnato una somma di punti che si tengono tutti l'uno con l'altro e di cui noi vi abbiamo rivelato soltanto poco. Perché tutti questi punti man mano devono essere digeriti. Perché non sono semplici. Non era semplice spiegarvi l'euro. Non era per niente semplice. Immaginate, era un momento con una campagna elettorale alle porte, con il rischio di rimanere fuori, di scandali, c'era di tutto. Andare a parlare di euro non era la cosa più normale. Eppure abbiamo detto ma se il primo punto, se il punto centrale, se la questione attorno al quale tutto il resto ruota è questa, armiamoci, prendiamo il coraggio a due mani e spieghiamo questa cosa. E alla fine si scopre che gli italiani sono molto meglio di quello che cercano di dipingerci. Approfittando poi ogni volta che c'è qualcuno dei numerosi scandali per gonfiarlo in maniera incredibile, in modo tale da far credere che siamo tutti corrotti, che siamo tutti dei minus abens. Invece in questo paese, quando giriamo, l'altro giorno eravamo con Matteo a Brescia a girare per imprese. Io quando entro dentro in un'impresa che produce cose all'avanguardia mondiale e che fa fatica e che potrebbe essere invece un leader mondiale, se fosse messo dentro in condizioni di competere. Resiste? E beh, mi fa capire tutto, gli altri scandali, le altre cosine trascolorano, perché fa capire che gli italiani veri a cui noi vogliamo parlare sono quelli lì. E ce ne sono, e ce ne sono tanti. E devono essere messi in condizione di camminare. E allora cosa succede? Il primo pilastro è stato l'euro. Il secondo pilastro che adesso vi mostriamo è appunto la flat tax. Altri ce ne saranno, ma sono tutti collegati. Si può resistere con la flat tax rimanendo nell'euro? No. Perché nel momento stesso in cui noi avremo più consumi, più possibilità, al momento stiamo bene, ma andremo a comprare prodotti esteri. Quindi non risolveremo del tutto i nostri problemi. Tutto si deve tenere. E la nostra proposta è dettagliata e precisa, perché noi facciamo le cose bene. Non facciamo degli slogan. Non diciamo, eh vabbè, lo dicono anche loro, facciamolo anche loro. Non facciamo come Grillo che dice, ah l'euro, facciamo il referendum, che significa non voler uscire, perché sappiamo benissimo che non è possibile e non è praticabile. E quindi si perde tempo. Noi diciamo come si deve uscire per uscire dall'euro. La flat tax, non diciamo una cifra a caso e non siamo qua a fare la gara a chi la spara di più. Uno potrebbe pensare, eh mi hanno detto 15% perché vogliono fare la gara a ribasso con gli altri. No. Possiamo cambiare. Possiamo cambiare perché ci sono due parametri a flat tax. Tutti guardano l'aliquota, ma c'è l'aliquota e la deduzione. Se uno dice 20.000 euro di deduzione, sta dicendo una sciocchezza. Perché non sta in piedi. La nostra sta in piedi. Sta in piedi al millimetro. E qui mi rivolgo ai giornalisti. Prendete lezione, quelli di voi di buona fede, prendete lezione a quello che è successo nei giorni scorsi con questa proposta. Perché purtroppo buona parte dell'informazione pattumiera in Italia viene fuori proprio da situazioni come quella che è successa l'altro ieri. Vale a dire, si prende un economista che purtroppo stimavo, stimavo. Gli si fa mettere dei numeri a caso, con degli errori grossolani, in modo tale da far venire fuori un numero che suoni bene. Cento miliardi di ammanco. Io lo chiamo subito. E gli dico, guarda che sbagli camorosamente. Sia nel metodo che nei numeri. I nostri numeri non sono quelli che hai detto tu. Sono dispostissimo a darteli. Non voglio sentire. Sei rifiutato di ascoltare la spiegazione ufficiale dei numeri. Perché bisognava mettere quel numero lì? Quei cento miliardi di ammanco che entrassero nel circuito dell'informazione? Che se ne parlasse. E guarda caso, poi dopo arriva il guitto, il crozza di turno, che serve per portare una roba che invece sarebbe elitario, no? Alla plebe, in modo tale che si sappia che è una sciocchezza, che è una cosa su cui ridere. Perché niente deve cambiare. L'unico mondo che va bene è quello del PD. L'unico mondo che va bene è quello di Renzi. Le sue balle vanno bene. Le verità degli altri sono ridicole. Beh, signori, io non voglio andare nel dettaglio. Comunque, se uno vuole, ci sono numeri a profusione. Però, giusto per capire quanto è serio questo modo di procedere, il fatto che il Signore abbia detto che 5.000 euro la deduzione l'abbia moltiplicata per 60 milioni di persone, dato che la deduzione è 3.000, significa un errorino di 120 miliardi sull'imponibile. 2.000 per 60 milioni di persone, 120 miliardi. Dato che si dimentica che già adesso ci sono 25 miliardi di deduzioni e non le ha messe nel suo conto, sono altri quindi 25, siamo a quota 145 di errorino di grandezze, dato che non sa a che platea si applica la nostra flat tax. Perché, capite che se l'intento è far emergere l'imponibile nascosto, è far emergere l'illusione, è far emergere l'evasione, è ovvio che le pensioni sono fuori da questo perimetro. Lo Stato è lo stesso che tassa sulle pensioni, è una partita di giro. Le pensioni vanno riformate in un'altra maniera, vanno alzate le pensioni di quelli che hanno pagato una marea di contributi, vanno abbassate quelle come, non so, un tal signor Bonanni, all'ultimo gli anni della sua carriera, si è fatto regalare uno stipendio da 300 mila euro all'anno, in modo tale che per sempre a voi spetti mantenere lo stesso stipendio faraonico, a vita e possibilmente anche a morte, se per caso poi la signora gli sopravvive. Ebbè, ma perché è così? Quindi, le pensioni è tutto un altro mondo. Io voglio far emergere l'imponibile, voglio far emergere chi evade. E poi, quindi, togliendo le partite di giro dello Stato, vale a dire di quando lo Stato paga qualcosa e se lo riprende subito, significa che sono 19 milioni di persone in meno che non rientrano nell'applicazione della flat tax. Sulla deduzione calcolata dal signor Daveri, perché diamo un nome a questo simpatico economista che ha fatto queste lievi imprecisioni e che soprattutto in maniera eticamente discutibile non ha voluto ascoltare i dati veri, perché se tu vuoi la verità, ascolti i dati veri. Se tu non la vuoi fare, sei in malafede. Allora, questo signore, 19 milioni di persone di platea differente per la sua deduzione sono 95 miliardi. Aggiungiamo quindi agli altri 145. Poi dopo abbiamo, perché sa, lui ha tolto le deduzioni a tutti, 60 milioni di persone. Ora, senza andare a fare ironie sul fatto i bambini di un anno e cose di questo tipo, però dovrebbe sapere, dovrebbe sapere, se è un economista, che allo stato attuale ci sono 11 milioni di redditi a zero. Vale a dire, la parte esentata in questo momento dal pagamento delle tasse, perché dice che non guadagna, guarda caso, stranamente, sono 11 milioni. E quindi che deduzione vuoi dedurre dal reddito zero? Vale 55 miliardi. Quindi questo simpatico signore, sommando tutte queste voci di lievi imprecisioni, ha sbagliato di una grandezza di 295 miliardi. Un record! Cioè, per tirare una balla da 100 miliardi ha sbagliato di 300. E voi, della stampa, dovete dar credito a queste persone. Signori, fate una cortesia. La mia faccia è qua. Ogni volta che avete il dubbio di qualcosa, prendete, tirate sul telefono, mi scrivete su Twitter, vi rispondo. Altrimenti, se volete scrivere dei numeri a caso, è perché siete contro il cambiamento e siete al servizio di qualcuno. E mi spiace, ma essere al servizio di qualcuno non fa onore alla professione di giornalista di cui io mi onoro di averla tessera. Chiaro? Quindi, se vogliamo, perché con la Lega purtroppo succede spesso questa cosa qua, diciamo le cose e poi si inventano. Perché fa più comodo inventare, fa più comodo mettere in burletta, fa più comodo pensare o scherzarci sopra invece di pensare che qui c'è un partito che sta pensando di cambiare veramente le cose, che ha cambiato se stesso e che è pronto a cambiare anche tutto il resto. Quindi, vediamo di pensarci su un po' bene. E poi un'altra cosa vorrei che i giornalisti riportassero da questa giornata. L'obiezione che tireranno subito tutti è lo schemino, quello che dice eh, ma questo ci guadagna un po' di più, quest'altro ci perde un po' di meno. Signori, siamo in un posto dove dati del Ministero delle Finanze dice che il lavoratore dipendente paga in media 19.810 euro, dichiara, dichiara, non paga, dichiara in media 19.810. Il capo del lavoratore dipendente dichiara in media 18.170. Quindi converrebbe probabilmente al capo del dipendente farsi assumere da se stesso in modo tale da poter avere un piccolo aumento. Quindi, se noi andiamo a prendere, prendiamo, o poverino, quello che dichiara strutturalmente 6.200 euro all'anno e c'ha una famiglia di 5 persone, questo magari non ha un grosso vantaggio mentre invece il ricco ce l'ha. Ecco, signori, se uno dichiara strutturalmente 6.000 euro all'anno e c'ha una famiglia di 5 persone, magari c'ha... È un evasore! Di che stiamo parlando? Cioè, quello che noi dobbiamo fare è proprio correggere questa stortura e azzerare questi 11 milioni di redditi zero. perché alla fine, guarda caso, da tutta la somma delle dichiarazioni dei redditi emerge un simpatico dato che l'80% dell'IRPEF è pagato da lavoratori dipendenti e pensionati. L'80%. Quindi, quando io propongo la flat tax, sto proponendo una cosa semplice e che non è di destra, signori, che non è a favore dei ricchi. Sto proponendo di far pagare di meno ai lavoratori dipendenti. Sto proponendo di far pagare di meno agli onesti. È di destra proporre di far pagare di meno agli onesti compensando questo minor pagamento con altre persone che in buona o in cattiva fede fino adesso non hanno contribuito al gettito fiscale italiano. È di destra o è di sinistra? Non solo. La stragrande maggioranza di questi lavoratori dipendenti come gettito è quel Nord. Mi sto snaturando io come Lega Nord se invece di dire parliamo solo di autonomismo, di federalismo che pure sono nel nostro DNA e che devono essere mantenuti. Sto parlando di una cosa che sgrava principalmente le spalle dei lavoratori del Nord? Io sto pensando, credo che sia una cosa molto leghista. Eppure i numeri cantano. I numeri cantano e ci dicono che se noi facciamo una cosa del genere avremmo una liberazione di risorse derivante non da un gettito maggiore o un gettito minore dal recupero di quello che non c'era. Non sto parlando di penalizzare uno come quella mentalità della sinistra che gestisce le cose sulla base del bilancio dove se io prendo dalla tasca di qualcuno devo mettere nella tasca dell'altro e viceversa alimentando odio nei confronti degli italiani fra loro stessi. Loro godono nel vedere le nostre divisioni. Godono nel dire io do gli 80 euro a quelli che sono i miei amici ma li tiro via da quelli che hanno la casa che invece mi stanno antipatici. Creano divisioni. Non va bene. Non va bene. Io vi faccio solo questo esempio giusto per capire poi ripeto se volete numeri dettagliati e così via sono a disposizione dettagliati se volete anche dettagli perché poi uno dice eh ma dopo i crediti d'imposta sì c'è anche su cosa succede per i crediti d'imposta già maturati abbiamo tutto tutti i dettagli sono a disposizione facciamo le cose seriamente e il fatto che abbiamo qua rabuschka è una prova ma vi racconto soltanto un'ultima storiellina giusto per capire se è di destra o di sinistra che racchiude la filosofia di quello che vogliamo fare noi ed è una storiellina di uno stato dove ci sono 11 persone 10 guadagnano 10 e una guadagna 100 e questo stato ha una flat tax al 20% bene chiunque guadagna 10 paga 2 di tasse chi guadagna 100 paga 20 di tasse totale gettito 40 ricordatevelo queste 11 persone hanno un gettito fiscale di 40 con cui pagano i servizi la sanità e così via a un certo punto arriva il PD in questo simpatico mondo e dice no non è giusto i ricchi devono piangere e quindi facciamo che quello che guadagna 100 lo tassiamo al 50% questo se ne va perché qui fanno tutti gli sceriffi di Nottingham e si dimenticano che confiniamo con Monte Carlo dice il ricco sarà mica fesso a passare alla foresta di Sherwood quando c'è il Monte Carlo di fianco questo se ne va rimangono i 10 però 40 di gettito li devi sempre tirare fuori allora cosa fai prendi quello lì che guadagna 10 lo tassi al 40% risultato gettito 40% gettito 40 uguale ottenuto come a voce tassando il ricco in pratica spremendo il povero che guarda caso è esattamente quello che vi sta e ci sta succedendo esattamente in Italia da tanti anni a questa parte a un certo punto invece arriva un fulmine di vino e secca il PD e arriva invece Salvini si portano via le ceneri di Renzi Monti Letta con lo scopino e arriva Salvini che dice ma facciamo il 10% e tutti oh disastro cosa stai facendo ecco non solo torna quello del reddito di 100 che se ne è andato via ma arrivano due suoi amici e guarda caso con il reddito a 10 adesso abbiamo quelli che pagavano 10 adesso invece di pagare 20 pagano 10 e danno 10 di contributo i 3 che guadagnano 100 danno 30 di contributo in totale totale sempre 40 facciamo e di destra abbiamo aiutato i ricchi abbiamo fatto un favore abbiamo fatto pagare di meno la povera gente abbiamo fatto pagare di meno la povera gente e la nostra povera gente è il ceto medio che continua a tirare avanti la carretta se ci sono più persone la carretta si tira meglio se noi non capiamo che bisogna fare in tante cose il contrario di quello che ci fanno costantemente credere con i loro media e con le loro tattiche di disinformazione continue e costanti di cui vi ho dato un esempio prima non ne usciremo mai ma possiamo uscire possiamo uscire dall'euro possiamo uscire dall'incubo delle tasse e usciremo anche da tanti altri incomodi che vi riveleremo in futuro come fare perché il nostro disegno è complesso è difficile da spiegare arriveremo da tutte le parti ma l'Italia la rivoluzioniamo o moriamo grazie grazie diamo adesso la parola invece al professor Leo fiscalista costituzionalista insomma persona autorevole che anche lui ci regalerà un intervento a favore della Flectax grazie allora grazie buonasera a tutti desidero ringraziare innanzitutto Matteo per l'invito e per la lodevole iniziativa perché finalmente stiamo avviando un percorso virtuoso un percorso di riduzione del carico fiscale se ne è sempre parlato ma sino adesso di cose concrete non ne abbiamo viste come è stato ricordato il sistema fiscale italiano è uno dei più complessi irrazionali è diventato una sorta di maionese impazzita una maionese impazzita che è diventata addirittura un bancomat per il governo gli ultimi tre governi mi riferisco a Monti a Letta e a Renzi hanno utilizzato la leva fiscale solo in una logica di gettito recuperare gettito immettere norme nel sistema attraverso le quali si possa recuperare materia imponibile e disinteressarsi poi dei problemi reali degli italiani quindi il fisco attuale è un inferno vi voglio dare solo quattro esempi primo esempio la tassazione immobiliare che cosa è successo per gli immobili negli ultimi tempi dal governo Monti in poi abbiamo assistito all'Imu la Tasi la IUC tutte cose che gutturalmente stonano pure no sono tutti tributi che in buona sostanza incidono su un bene fondamentale per la nostra economia sugli immobili bene che cosa si è fatto si è semplicemente disimpegnato la gente si sono disimpegnati i cittadini italiani a investire sull'immobile quindi questo è il danno che è stato provocato al comparto immobiliare e poi che cosa è successo che non si sa neppure come pagare queste benedette tasse perché perché bisogna andare dai commercialisti bisogna andare dagli specialisti anche loro in grossa difficoltà per dire come si determina il carico fiscale pensate agli alloggi popolari oggi nessuno sa neppure come chi deve pagare per gli alloggi popolari e pensiamo a quello che è successo per gli acconti no è stato aumentato l'acconto oltre il 100% quindi nel momento in cui io devo andare a pagare l'acconto d'imposta per un anno non debba andare a pagare di più di quello che può essere l'imposta da versare nell'anno di riferimento ma questa è civiltà fiscale assolutamente no e un altro tema voglio ricordare Renzi sta sbandierando la questione della riduzione delle tasse per circa 18 miliardi nel 2015 e dice guardate io riduco le tasse riduco l'IRAP porto in diminuzione dell'IRAP il costo del lavoro per carità è una cosa positiva ma andiamo a vedere come funzionerà questo meccanismo nel 2014 verrà aumentata l'aliquota ricordo che in un primo momento si pensava di ridurre l'aliquota dell'IRAP dal 3,9 al 3,5% poi che cosa è successo che per dare copertura a questa riduzione del costo del lavoro si riaumenta l'aliquota quindi dal 3,5 la si riporta al 3,9% e l'artigiano e il commerciante che non ha dipendenti che cosa fa paga solamente più imposta quindi passa dal 3,5% al 3,9% senza avere benefici ma questo è un sistema che può reggere e vi faccio un ultimo esempio quello del famoso modello precompilato si dice stiamo avviando la riforma fiscale che peraltro non è neanche una riforma perché sono interventi tampone non mirati e stiamo avviando la riforma fiscale in che modo la stiamo avviando mandando avanti il cosiddetto modello precompilato quindi i contribuenti non avranno più problemi gli arriverà a casa la comunicazione dell'agenzia dell'entrata loro diranno mi va bene e si chiuderà la partita le cose non stanno così perché sicuramente nell'anagrafe tributaria non sono presenti tutti gli elementi relativi alle deduzioni detrazioni e via dicendo quindi bisognerà apportare delle correzioni e nell'apportare queste correzioni che bisognerà fare bisognerà rivolgersi al CAF bisognerà rivolgersi al professionista e con l'assurdo che il CAF e il professionista che riceveranno queste richieste e potranno apportare delle correzioni saranno addirittura responsabili dell'imposta non propria ma dell'imposta di un terzo se sbagliano e tutto può accadere pagheranno loro l'imposta del soggetto che gli ha fatto la richiesta di assistenza quindi pensate come può funzionare ecco alla luce di tutto questo che cosa si deve fare bisogna cercare di venire incontro alle fasce più deboli e cercare in qualche modo di correggere questo meccanismo assolutamente perverso e lo si deve fare per i piccoli imprenditori lo si deve fare per le partite IVA perché i grandi signori miei si sistemano per conto loro avete avuto modo di vedere la vicenda LuxLeaks no Juncker che cosa ha fatto Juncker dal 2001 al 2010 ha fatto accordi con multinazionali e via dicendo per ridurre il carico fiscale no si andava lì si andava in Lussemburgo si diceva beh io mi accordo con i cosiddetti ruling anziché pagare 30 pago 10 e sto a posto altre imprese parlo sempre di imprese di grandi dimensioni si sono salvati come? con la cosiddetta exit tax che cos'è l'exit tax? è un meccanismo attraverso cui io impresa e non facciamo i nomi di grossi dimensioni che faccio? me ne vado all'estero metto la mia sede legale la sede fiscale all'estero e non pago l'imposta tutte le plusvalenze tutti i maggiori valori relativi agli asset non pagano l'imposto e fengono sospese non stiamo facendo un regalo alle grosse imprese ecco invece noi ci dobbiamo occupare della realtà economica italiana la realtà economica italiana è fatta di piccoli imprenditori fatte delle partite IVA dei professionisti e come possiamo fare? proprio con Matteo con Giancarlo Giorgetti abbiamo pensato di presentare una serie di emendamenti semplici facili che il governo potrebbe approvare e che in qualche modo vanno nella direzione di correggere le anomalie del sistema fiscale il primo emendamento è quello sugli studi di settore oggi gli studi di settore sono una camicia di forza che ci portiamo avanti dal 1993 e da cui non possiamo prescindere perché si è facile dire no è un meccanismo di accertamento non un meccanismo di reddito ma non è così perché nel momento in cui io non sono congruo agli studi di settore che cosa faccio? il fisco mi fa un accertamento e come mi difendo? se io non ce la faccio se io soprattutto in un momento come questo di crisi economica non ho la possibilità di pagare come vado a difendermi? a chi lo vado a dire? ecco abbiamo pensato che una soluzione ci può essere oggi esiste il cosiddetto osservatorio degli studi di settore che è un osservatorio di cui fanno parte prevalentemente funzionari dell'agenzia dell'entrata cambiamo il meccanismo diciamo che di creare un osservatorio di cui facciano parte di cui la maggior parte sia costituita da rappresentanti dell'associazione di categoria e via dicendo e quindi se io contribuente non sono congruo ma non per cattiva volontà perché non ho ricavi sufficienti per arrivare a quei livelli di congruità mi vado a rivolgere a questo osservatorio che ha una composizione diversa rispetto all'attuale e quindi gli dico guardate io non ce la faccio l'osservatorio verifica la situazione mi mette il bollino e quindi l'ufficio dell'agenzia dell'entrata non deve più andare a chiedere al contribuente cose che il contribuente non può onorare ecco questo è un primo intervento che si può fare va nella direzione delle partite IVA dei piccoli imprenditori degli artigiani dei commercianti un secondo intervento riguarda la vicenda Equitalia è stata ricordata prima oggi Equitalia sta diventando una sorta di cappio al collo il contribuente che purtroppo non aveva disponibilità si è trovato in difficoltà negli ultimi tempi e che ha dichiarato correttamente le sue imposte le ha messe nelle dichiarazioni ma non aveva i soldi per pagarle oggi che cosa si trova costretto a fare innanzitutto rischia il penale perché nel momento in cui io ho indicato l'IVA nella mia dichiarazione ma non c'aveva i soldi dice purtroppo ho preferito pagare i lavoratori dipendenti piuttosto che inserire che pagare l'IVA dice non ce la facevo dice ho pagato i dipendenti bene che succede in questo caso rischio il penale più si applicano le sanzioni amministrative e si verificano quei casi come ha ricordato Siri di gente che è morta e allora che cosa si può fare nell'immediato io ho fatto ho fatto un'azione dolosa ho nascosto pervicacemente al fisco il mio reddito no gliel'ho detto dico guardate non ce la faccio a pagare e allora in quel caso perché non togliere le sanzioni non togliere gli interessi e dare una rateizzazione lunga questo è un gesto di civiltà nei confronti dei cittadini dei contribuenti e perché e perché non dire pure non dire pure a quegli stessi contribuenti dice va bene tu hai sbagliato perché ci sono dei casi in cui il contribuente non ha potuto pagare le imposte beh in quel caso dice beh evitiamo di massacrarti con le sanzioni con gli interessi facciamo una cosa dice se tu hai dichiarato meno di quello che avresti dovuto dichiarare in questo caso dice facciamo una riduzione del 50% delle sanzioni degli interessi diamoti un periodo lungo per poter pagare le imposte questo non è venire incontro agli evasori questo è rendersi conto delle difficoltà del momento della congiuntura economica della gente dei padri di famiglia che non riescono a fronteggiare la situazione d'emergenza questa cosa si può fare subito non è che richiede grosse risorse finanziarie peraltro negli emendamenti che il gruppo della Lega Nord ha presentato ci abbiamo messo pure le coperture tagliando gli sprechi ma perché queste cose non si fanno e terza e ultima questione questo è un ponte verso la flat tax che è la soluzione radicale la soluzione corretta per risolvere i problemi di tutto il sistema paese perché sappiamo che la fiscalità è il primo elemento l'elemento cardine per risolvere i problemi degli italiani la terza la terza proposta normativa che abbiamo presentato è quella della detassazione del reddito incrementale una sorta di flat tax temporanea ve lo spiego con un esempio se io nel 2014 avevo realizzato 100 euro facciamo un esempio semplice e nel 2015 realizzo 10 euro in più del 2014 quindi non 100 ma 110 su quei 10 euro in più anziché pagare le aliquote progressive quindi l'aliquota marginale pago un'aliquota del 10 del massimo 15% e questa misura che cosa a che quale quale obiettivo raggiunge ne raggiunge due uno come si diceva prima contrasta l'evasione fiscale perché se io ero evasore nell'anno 2014 e nel 2015 evidenzio un reddito di 100 su quei 100 so che pago 15 e finisce il fisco conosce quell'evasore e poi è una misura pro sviluppo pro crescita in vista di arrivare alla flat tax che si dovrebbe fare poi lo spiegherà bene il professor Abusca già dal 2015 ma dobbiamo dirlo che troveremo opposizione da parte del mondo intero sia come si ricordava prima da parte di certa stampa non qualificata e sia pure da parte della sinistra che osteggia questo progetto e che è la soluzione al problema e l'osteggia perché sbandierando che la proposta della flat tax è una proposta incostituzionale bene io vorrei attirare l'attenzione vostra proprio sul concetto della perfetta coincidenza con la carta costituzionale della flat tax lo ricordava prima Siri il comma la 2 dell'articolo 53 non voglio tediarvi con questo dice che il sistema tributario informato ha criteri di progressività quindi criteri di progressività non dice che il sistema tributario è progressivo che significa che se io adotto una liquota flat quindi la liquota piatta la liquota del 15% ma poi vado a modulare attraverso cosa che si vuol fare nel progetto attraverso deduzioni detrazioni mirate che cosa ottengo come risultato ottengo quello di realizzare la progressività del sistema tributario e quindi è perfettamente in linea con la carta costituzionale e oltre a essere perfettamente in linea è validato dalla stessa corte costituzionale perché la corte costituzionale l'ha detto non è un tributo a essere progressivo ma è il sistema che deve essere progressivo e quindi ci sono tutti gli elementi ci sono tutte le condizioni per poterla applicare sicuramente ci saranno opposizioni ci saranno di leggi perché come è stato ricordato la gente dirà state inventando cose ma la strada è questa è la strada per contrastare l'evasione fiscale è la strada per lo sviluppo è la strada per incidere sulla ripresa sui consumi si rimette in circolo l'economia beh se facciamo questo se ci muoviamo in questa direzione veramente diamo una svolta a questo paese veramente veniamo incontro alle categorie più deboli parlo sia dei dipendenti dei pensionati delle imprese dei lavoratori autonomi e finalmente possiamo riportare questo paese agli standard dei livelli che finalmente merita Matteo proseguiamo così perché i risultati verranno ottenuti grazie è professore all'università di Stanford è il padre mondiale della FLEGTAX è colui il quale l'ha applicata in 38 paesi al mondo è stato consigliere economico del presidente Reagan ho l'onore di avere qui e cedergli la parola al professor Alvin Rabuska grazie grazie di cuore allora abbiamo iniziato nel mese di aprile abbiamo cominciato qui a Milano c'era un pubblico più limitato di oggi in questo momento invece vedo una bellissima sala piena di persone e quindi vi dico subito una cosa un mio primo commento allora se voi prendete il nome di Salvini togliete la S togliete anche la I ok ecco qua avete già capito dunque ho subito un paio di commenti da fare con voi prima di iniziare allora innanzitutto il vostro paese è un paese meraviglioso con tantissimi monumenti con tanti musei con tante chiese con tanti castelli il cibo è meraviglioso avete il vino avete anche Sofia Loren avete Claudia Cardinale avete Gina Lullo Brigida e tutte le bellissime donne qui a Milano oggi pomeriggio ok quindi è un paese in cui non è possibile non vivere allora c'è però un problema adesso l'impossibilità c'è c'è elevata disoccupazione avete una elevatissima disoccupazione giovanile avete un debito pubblico altissimo e poi avete una politica come dire con varie difficoltà e poi vedete questo è un paese dove ci sono in giro delle idee vecchie avete un'idea di socialismo qui avete questo pesante intervento da parte del governo avete tutta questa idea sulla ridistribuzione della richiesta e poi avete il nepotismo ora vedete l'Italia l'Italia cosa ha fatto ha prodotto dei grandi economisti molti di loro però adesso sono ad insegnare negli Stati Uniti ad esempio un sondaggio fatto sull'istruzione sulla formazione dal Times sapete cosa ha fatto non ha elencato pensate neanche una università italiana in questo elenco nelle principali duecento del mondo è chiaro che non potete creare un grande paese se non avete delle belle grandi università ora vedete ci sono due scuole di pensiero due business school italiane all'interno di queste duecento sono due business school sono solamente due quindi come diciamo in americano quando siete già nella fossa smettete di scavare ok dovete semplicemente prendere una scala e uscire allora ieri ieri signori sono andato a fare una passeggiata sono arrivato qui al Duomo e ho detto una preghiera proprio per la mia aliquota unica e penso che insomma sì forse avete già risposto anche voi con i vostri applausi a questa mia preghiera allora vi parlo a parte questo vi parlo oggi pomeriggio velocemente di tasse allora come visto già prima in questa simpatica slide neanche Einstein riuscirebbe a capire quello che è il codice delle imposizioni di oggi quindi il fisco allora a parte Einstein questa diapositiva guardate potrebbe essere secondo me la più importante che vedrete nella mia presentazione di oggi allora signori questo è la cosiddetta questa è la crescita economica ed è la media mobile decennale questo riguarda l'Italia e i vostri ultimi 30 anni dall'80 al 2010 purtroppo tranne qualche altro in basso si va decisamente in basso ora se invece diamo un'occhiata a quello che è successo qui negli ultimi 15 anni allora vediamo un po' come si è comportata l'Italia allora siete esattamente a dove eravate 15 anni fa guardate dunque devo dire che in tutto quanto il mondo quindi con circa diciamo 180 paesi pensate che l'Italia è la terz'ultima ok quindi 177esima per quanto riguarda questo tasso su 180 paesi questa è la produttività in Italia per lavoratore guardate un crollo drammatico questa grande notorietà fama in positivo intendo dei grandi lavoratori italiani sta scomparendo e poi sta succedendo anche un'altra cosa sta lievitando il vostro debito pubblico vedete scende la crescita anzi non c'è si lavora di meno e ahimè aumenta il debito ora altra cosa ancora guardate questa diapositiva allora qui vi faccio vedere quello che è il sommerso ebbene l'Italia sembra avere come dire a livello mondiale siete secondi per importanza dell'economia sommersa con circa il 25% del vostro prodotto interno lord ebbene come si è detto precedentemente no questo sfugge alla base fiscale alla base imponibile quindi questo nero ovviamente è nero sfugge alla luce è semplicemente una modalità per le persone per non pagare le tasse come dire è come prendere guardate una sorta di persona una su quattro se volete e praticamente blocca come dire le altre tre che invece pagano molte tasse perché questa persona su quattro non le paga affatto mi sembra una cosa veramente incredibile no torno a questa diapositiva guardate vi faccio concentrare un attimo brevemente su questi numeri che riguardano la storia dell'Italia allora in questa diapositiva peraltro insomma la troverete anche su internet quindi insomma non prendete nota adesso perché vi daremo il materiale allora a parte questo guardate io sono venuto per la primissima volta qui in Italia nel 65 e direi che guardate quello che è successo a livello di pressione fiscale compresa appunto le tasse le imposte era appunto del 16 8% ora tre anni fa guardate 2011 eravate praticamente al 30% ok quindi praticamente quasi il doppio ora se ci metto dentro anche tutto ciò che è la copertura sociale quindi la sicurezza sociale lì si va guardate dal 25% del 65 siete passati al 44 di due anni fa allora i vostri servizi sociali sono diventati due volte migliori di 30-40 anni fa le scuole sono due volte meglio no no però voi avete forse due volte in più di burocrati in governo e forse anche più del doppio allora dove se ne sta andando questo flusso di denaro cosa ne ottenete in cambio allora quando ero qua decenni fa l'Italia era un bel paese certo è ancora un bel paese però paghiamo il doppio delle tasse di qualche decennio fa allora che succede guardate anche queste depositive è importante secondo me perché è decisamente qualcosa che ci fa riflettere ora guardate nei dieci anni che sono passati tra il 65 e il 75 praticamente non c'è stato un aumento del livello di imposizione fiscale medio in Italia eravate praticamente sì eravate 25 su 25 comportavi in questo modo nei paesi oxe che è successo però negli anni seguenti negli anni del decennio seguente vedete che le tasse sono aumentate come quota della vostra economia siete diventati praticamente i secondi che più hanno aumentato le tasse solo un paese vi ha superato nei dieci anni ancora dopo 85 95 siete diventati quelli che hanno aumentato di più le tasse su questi 25 paesi dell'oxe e poi tra il 95 e il 2011 è aumentato questo rapporto del 3 1 siete stati i sesti diciamo più cari ora cosa vuol dire questo se io vado a togliere la prima decade i primi dieci anni cioè dal 65 fino al 2011 tolgo questa prima decade che c'era un'eccezione l'Italia è stata prima tra tutti i 25 paesi dell'oxe come aumento della tassazione sempre rispetto alla quantità o come la quota della vostra economia non siete stati secondi né terzi né quindicesimi siete praticamente quelli che hanno fatto nascere per così dire i più grandi aumenti fiscali di tutti quanti i paesi 25 dicevamo dell'economia occidentale vi sembra una cosa equa non è equa questa cosa non è giusta perché la gente pensa di aver bisogno sempre più di tasse allora avevo cominciato già con questo grafico e ve lo faccio rivedere quindi avete appena visto ecco torna questa diapo guardate dunque si guardate questa pressione fiscale che non fa noto che è salire 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 ok fino a raggiungere le stelle allora al tempo stesso però qui vedete scendere l'economia costantemente scendere quindi le tasse aumentano l'economia scende beh il ragionamento purtroppo è molto chiaro ok non è affatto complicato capire questo meccanismo non è neanche troppo sofisticato non bisogna essere cervelloni e non è affatto difficile ripeto da capire quello che è successo allora le tasse sono aumentate guardate guardate e l'economia sta scendendo ok non dimenticatevi veramente questi due messaggi questi due diapositive ci torniamo fra un attimo cosa vi ho messo invece in questa diapositiva ok in questo caso abbiamo l'esattore fiscale che ci corre dietro perché guardate appunto quanti audit cioè quante revisioni fiscali vengono fatte quante tasse tasse quindi che come dire non sembrano mai abbastanza bisogna aprire sempre di più la borsellina poi anche la borsa e poi la borsetta insomma la cosa non sta migliorando anzi la cosa sta peggiorando allora nella storia dell'essere umano la prima lingua registrata è il sumero ok scrivevano su piccoli coni ebbè questo primissimo cono che è stato scoperto e trovato aveva pensato le seguenti parole incise quasi scolpite non dovete temere Dio non devi neanche temere il tuo signore la persona che dovete temere è il finanziere ok le primissime parole in sumero bene allora che succede in questo momento vedete questa persona sta praticamente non è al telefono ma sta ascoltando tutti voi ok allora guardate qui avete l'aliquota massima che è del 43% e poi sapete che c'è anche un'aggiunta del 3% di tasse di solidarietà potreste arrivare al 46% in questo paese allora i giornalisti reporter e anche molti professori pensano ancora che questa quantità di denaro cioè questa aliquota non sia sufficiente ad esempio qualcuno ha sparato un 75% addirittura tanti economisti francesi 250 economisti appunto hanno detto crediamo a Hollande perché Hollande vuole arrivare fino al 75% cosa è successo? è successo che Gerard Depardieu è diventato russo per pagare il 13% e Brigitte Bardot è diventata anche lei una che paga il 13% e qualcosa come 400.000 cittadini francesi sono residenti a Londra in cui pagano molto meno Hollande vediamo un po' cosa farà forse farà scadere questa idea oppure 250 economisti che hanno firmato questa petizione forse sono loro che si sbagliano chissà bene a parte questo questo tema anche questa diapositiva è importante guardate che vi faccio vedere l'elenco di tutti i paesi che hanno già adottato il sistema della AU dell'aicota unica allora come è possibile vedere si tratta praticamente dei quattro angoli del pianeta si tratta dei paesi grandi e dei paesi più piccoli abbiamo rappresentati qui l'Africa l'Asia l'Europa centrale l'Europa orientale l'America latina abbiamo anche paesi che si affacciano sull'oceano pacifico e sull'oceano atlantico allora qui vedete le aliquote abbiamo da un minimo del 9% direi fino a un po' più su ogni paese ovviamente ragiona un pochino diversamente rispetto agli altri però se qualcuno vi dicesse no l'Italia qui non ci può stare non ce la farà ma allora perché ce l'hanno fatta queste 38 mi domando io e vedete i paesi che hanno adottato questa aliquota unica hanno adesso delle economie migliori rispetto ai paesi che non l'hanno fatto vi faccio un altro esempio ci farà perdere denaro o ci farà sarà perdente questa aliquota unica no guardate quando il governo russo ha adottato l'aliquota unica tutti hanno detto ah no sicuramente il ministero non avrà abbastanza denaro ci toccherà chiudere ospedali e scuole non ci saranno più servizi pubblici funzionanti tenendo conto dell'aggiustamento per il tasso dell'inflazione il gettito effettivo effettivo ripeto è passato diciamo è moltiplicato di quasi tre volte cioè più 280% negli ultimi sei anni il tasso composto è diventato quasi tre volte più grande di prima perché la gente ha smesso di imbrogliare semplicemente capite che al 13% non va la pena imbrogliare ok vi tenete l'87% direi che abbastanza diamo pure 13% al governo a detti i russi e quando si arriva a 30% 40% che le cose cambiano al 50% signore beh capite che un euro che voi avete in tasca beh ne è costato un altro di tasse ok oppure fate il contrario se avete una base imponibile di uno vi rimane 50 centesimi e quindi se imbrogliate quindi come dire imbrogliate su un euro beh questo vi conviene tra virgolette perché ci guadagnate il doppio ok e quindi purtroppo bisogna dire la verità lì è due volte meglio o più redditizio imbrogliare che non pagare le tasse è una cosa folle allora questa è una delle mie immagini preferite ci tengo a condividerla con voi allora questo è Mark Lahr è stato dunque lui come sapete rappresenta l'Estonia è il primo ministro estone è stato il primo paese nel 94 ad adottare il sistema aliquota unica quando Mark Lahr cioè l'Estonia l'ha fatto questo signore aveva solo 32 anni era veramente giovanissimo e quindi a tantissimi giovani piaceva questa persona e francamente insomma le persone che erano già avevano già delle cariche da cent'anni mi venne da ridere non ne apprezzavano molto questa persona ripeto lui era apprezzato dai giovani e quando ha fatto questo passo in avanti aveva solo 32 anni guardate qui avete alcuni dei criteri standard che tutti quanti noi utilizziamo li trovate veramente in qualsiasi libro dove si parla di finanza pubblica piuttosto che di tasse o di fiscalità si parla di equità si parla dell'avere lo stesso trattamento davanti alla legge la semplicità ovviamente l'efficienza economica e poi il raggiungimento degli obiettivi rifletteteci sopra avete le vostre idee di sicuro ve le volevo giusto far vedere come principi penso che sia importante anche questa diapositiva potete innanzitutto leggere questo libro gratuitamente ora semplicemente dovete andare a scrivere su google il mio nome e ancora una volta quindi digitate bene e quindi è possibile avere questo testo insomma basta fare un paio di clic e scaricate questo testo non forse è altro che per fare un po' di pratica d'inglese ok allora il mio collega Bob Hall ha lavorato con me abbiamo concepito questo progetto così vi piace chiamarlo nel 1981 ecco tutto quello che serve nella vostra dichiarazione dei redditi è tutto qua forse neanche 5 minuti nulla di complicato ok questo è anche oggi insomma il modello lo potrei fare più o meno uguale a questo è passato qualche anno vedete questo è del 96 ebbene qui è possibile vedere questo modulo è semplice così e potete averlo così semplice anche in Italia in questo caso beh insomma avete 4 pagine al massimo per spiegare le varie caratteristiche non 100 pagine o 1000 in 4 pagine avete tutto quanto la spiegazione scusate penso di aver spento involontariamente ecco qui grazie mille allora ecco qui un'altra tabella dunque è una diapositiva che dovreste a meno in parte memorizzare questo è il punto francamente sollevato da chi mi ha preceduto prima vi spiego vi devo dire una cosa io non ho deciso come dire non ho deciso di dare a Berlusconi il 20% per far felice Berlusconi ho preso il 20% semplicemente perché è un numero facile da calcolare per cui se qui ci sono dei giornalisti o dei reporter per favore non dite il professor Abuschka vuole fare il 20% ricordate questo è un esempio non è per accontentare nessuno è solo perché è facile da capire allora ho fatto il tutto in dollari e non in euro semplicemente perché sono americano giusto per farvi vedere lo ripeto l'esempio sono dollari e abbiamo preso 20% signori se avete un reddito di 20.000 dollari ok e avete quindi uno sclavio fiscale chiamiamola deduzione come volete di 20.000 il vostro reddito imponibile la base imponibile è zero pagherete zero perché avete un tasso di zero è normale così ok non c'è niente di più basso è normale facciamo un altro esempio saliamo un po' siamo a 30.000 dollari io sottrago quindi questa deduzione uno sclavio di 20.000 che rimane sempre fisso ecco che la base imponibile passa ai 10.000 vado a pagare 2.000 di tasse però attenzione 2.000 se lo divido per 30.000 che è il mio reddito è praticamente il 6,7% ok quindi andando pian piano ad aumentare il vostro reddito il valore della deduzione diventa relativamente più piccola rispetto al vostro reddito giusto e quindi vedete che il tasso per cui l'aliquota pian piano arriverà verso il 20% in fondo alla slide quando siete però a un milione di dollari ora se la costituzione del vostro bel paese italiana vi dice che la tassazione deve essere progressiva signori qui c'è progressività si va da zero poi si passa al 6 10, 12 pian piano su come una scala fino al 20% neanche questa è progressiva ok per cui cosa vuol dire vuol dire che c'è una distinzione importantissima lo dico mille volte che deve essere fatta fra graduare delle aliquote multiple da una parte e la progressività dall'altra cosa vuol dire allora ci potrebbe essere un'esezione una deduzione uno sgravio come volete quello è un sistema progressivo ok non fatevi imbrogliare e lasciarvi dire altre cose quello è progressivo allora come avete sentito parlare prima e come è stato detto chiaramente da chi mi ha preceduto quello che abbiamo qui è una base imponibile molto più vasta allora ci sono appunto delle esenzioni gli indigenti non pagano nulla la classe media avrà degli scravi però i ricchi non abbandoneranno il paese pagheranno di più questo è il discorso appunto l'aliquota unica praticamente è più progressiva rispetto appunto a questo sistema graduato proprio come ci dicevano i due colleghi di prima allora vorrei concludere con un'altra piccola battuta vediamo di tornare alla slide nessun problema possiamo tornare anche alla mia copertina ecco qui una piccola storia del fratello di Robin Hood ok non conoscete la storia del fratello di Robin Hood immagino provo a raccontarvela io ora sapete che Robin Hood rubava i ricchi per andare ai poveri però non rubava veramente dai ricchi rubava dallo sceriffo di Nottingham il quale rubava dalle persone in modo tale appunto da poter dare dei rimborsi fiscali e quindi pensiamo a Robin Hood qualcuno che dava la gente una sorta di rimborso fiscale ok però aveva guarda caso Robert il suo fratello gemello ed era un fratellaccio che succede era cresciuto in un piccolo villaggio nell'Inghilterra e quindi voleva diventare sindaco di questo piccolo paesino sapete cosa è successo beh ha capito una cosa cioè che una volta all'anno un mercante ricchissimo sarebbe passato in città e sul suo cavallo c'era tutto dell'oro c'era del denaro e veniva in città per comprare del cibo degli utensili degli abiti se li riportava a casa li avrebbe poi rivenduti insomma questo era il suo business come diremmo oggi di questo mercante allora Robert Hood il fratellastro ha avuto un'idea aspettava quindi l'arrivo del mercante in città e a un certo punto si presenta e dice fermati tira fuori squaina la spada e dice attenzione voglio tutti i suoi soldi tutti i tuoi soldi glieli prendo tutti va in città e racconta a tutte sapete cosa io darò a tutti voi signori abbastanza denaro così che se votate per me non dovete lavorare più neanche un giorno e tutti alzano la mano io voterò per Robert Hood Robert Hood sarà il nostro sindaco ok beh fin qui sembra anche accettabile la cosa l'anno dopo cavolo devo fare la stessa cosa per essere rieletto e qui di nuovo ripassa il mercante sul suo cavallo e ancora gli ruba tutti i soldi che ha torna nel villaggio e distribuisce tutta pioggia alle persone e guarda caso tutti lo eleggono di nuovo e vince le elezioni che succede però nel frattempo succede che i agricoltori non lavorano più in campagna non c'è più nulla gli artigiani insomma nessuno fa più niente sembravano tutti in welfare la gente sembrava contenta donne canzoni musica non dobbiamo lavorare mangiamo beviamo che succede l'anno dopo ancora ripassa al mercante Robert ormai lo attende al vacuo tira fuori la spada dammi tutti i tuoi soldi e il mercante dice guarda che non ho più un soldo come non hai soldi scusa cosa vuol dire ascolta ma perché devo lavorare se mi prendi tutto e quindi torna in città Robert Hood e deve svelare alla sua polazione signori stavolta non ho denaro ed inverno muoiono tutti di fame non c'è da riscaldarsi non c'è da vendere nulla da raccogliere le ore in campagna non c'è da mangiare e quindi il 100% di tasse sul ricco ha fatto crollare appunto il 100% di tutta l'economia di quel villaggio questo per dirvi che quando parlate di tasse elevate sui ricchi ricordatevi che quella è alla fine una tassa sulla classe media e sui poveri allora spero che fra 5-6-7 mesi tornerò volentieri qui a Milano e sarò veramente felice di poter tornare a parlare assieme a queste persone quando firmerete appunto una bella legge sulla liquota unica qui in Italia grazie mille grazie di cuore applausi bene grazie mille al professore Alvin Rabuschka e adesso do la parola invece a Matteo Salvini segretario federale della Lega Nord grazie per l'occasione per il professore in giacca e cravatta capita due volte all'anno quindi fino a giugno non mi rivedete in giacca e cravatta questa è una bellissima giornata e lo vedo anche dai commenti che stanno arrivando su Facebook su Twitter perché il tentativo del sistema è di dire che la Lega c'è quando si parla di Rom noi non ci alziamo la mattina e andiamo a letto la sera con l'incubo dei Rom semplicemente ritengo che in questo Paese tutti dovrebbero avere gli stessi diritti e gli stessi doveri quindi la stessa legge dovrebbe valere per tutti Rom finlandesi eschimesi giapponesi bresciani leccesi tutto detto questo li lasciamo a Renzi ai sindaci di sinistra e a Mafia Capitale è il business dei Rom dei rifugiati e noi ci occupiamo di qualcosa di più importante quello di oggi è un tassello importante che mette il cittadino al centro ad oggi lo Stato è al centro ad oggi lo Stato ha ragione e il cittadino ha torto perché in ogni caso il commerciante è un furbetto l'artigiano è un furbetto anche il lavoratore dipendente è un furbetto lo Stato invece ha sempre ragione e noi vorremmo culturalmente andare al governo per capovolgere questa situazione il cittadino ha ragione e lo Stato ha torto in partenza e semmai è lo Stato che deve dimostrarmi che lui ha ragione e che io ho torto che senso ha se il professor Rabuschka ieri passeggiando per le vie del centro avesse voluto fare un regalo a qualcuno tornando negli Stati Uniti e avesse avuto in tasca 1500 euro in contanti entrava in negozio e lo cacciavano via perché siamo degli scemi perché abbiamo deciso che il limite della spesa in contanti è di 1000 euro che senso ha che senso ha e ieri parlavo con un imprenditore che mi ha detto non c'era la slide ma la scelta è che mia moglie lavorava in una gioielleria ed erano in 14 adesso in quella gioielleria ci lavorano in 2 perché vanno a fare acquisti in Svizzera perché vanno in Francia perché vanno in Austria perché vanno in giro per il mondo questa è una riforma che fai domani mattina con tre righe a costo zero anzi che ti fai incassare più ma è la cultura della sinistra per cui tu mi stai fregando e quindi io ti faccio chiudere il negozio piuttosto e non incasso più una lira vi sembra normale non si può chiedere a Renzi di togliere domani mattina per far passare un Natale decente a quei poveri eroi dei commercianti di togliere il tetto di spesa a 1000 euro che non ha alcun senso sulla faccia della terra e non costa niente non costa niente e se però spendi 35 euro devi avere il bancomat devi avere il bancomat o la carta di credito perché siccome le banche non ne hanno a sufficienza dei miliardi di euro che arrivano dalla BCE all'1% di interesse e questi reinvestono bellamente in buoni del tesoro al 3% quindi senza cliccare un bottone ci guadagnano miliardate di euro e stanno preparandosi a lasciare a casa 30.000 dipendenti delle banche perché più ne prendono più incassano più lucrano più licenziano e bisognerà aprire anche il problema delle banche perché in Italia non è possibile un sistema del genere però ti piazzo il bancomat e la carta di credito e anche lì non ha senso non ha senso non è normale può andare bene a Cuba poteva andare bene in Unione Sovietica ma non ha senso in un'economia teoricamente liberale di mercato sugli studi del settore si sono già pronunciati Renzi dice che è contro i corrotti ma costringe al falso in bilancio migliaia di persone che ci stanno perdendo ma sono costretti a dire che ci stanno guadagnando per evitare di entrare nella macchina della tortura del fisco italiano sulla legge Fornero abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare e io spero che non ci sia nessuno nella sede della Corte Costituzionale che sta pensando di sottrarre il diritto a 60 milioni italiani di andare a votare il referendum in primavera e saremo dei cani da guardia perché quel referendum deve essere votato deve essere votato ci sono gli artigiani costretti a pagare la cassa edile a fare dei versamenti per una pensione che non vedranno mai nella vita e stiamo perdendo un know-how che è tutto italiano professore perché appunto lo Stato italiano preferisce far chiudere per principio piuttosto che ragionare da persone di buon senso ci sono 150 mila ricorsi fiscali pendenti in Italia nel 40% dei casi il cittadino ha ragione piccolo problema per farti dar ragione devi iniziare a pagare un terzo della sanzione e quindi c'è gente che pur avendo ragione manco fa ricorso perché non ha un terzo della sanzione d'anticipazione non è normale dovrebbe essere lo Stato a dare un terzo dell'ipotetica sanzione in più al cittadino per le rotture di palle a cui lo sottopone solo per semplicemente per le rotture di palle a cui lo sottopone qualcuno di voi si è accorto che fra 15 giorni finisce il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea qualcuno ha a parte le foto di rito Berlusconi magari sorrideva faceva le corna questo è più compito però ha portato a casa qualcosa c'era un dossier su cui il premier italiano avrebbe dovuto legarsi alle porte di ingresso del Parlamento e della Commissione Europea che è il dossier sul Made in Italy obbligatorio cioè l'etichettatura obbligatoria voglio sapere quello che mangio quello che compro quello che vesto dove è stato confezionato da chi e perché uno devi portare a casa un dossier perché il falso Made in Italy ci costa ogni anno 60 miliardi di euro in tarocchi la falsa giacca il falso olio il falso parmigiano il falso vino 60 miliardi di euro di mancato fatturato ebbene siamo così rilevanti a livello europeo che il Made in obbligatorio in questi sei mesi non è stato neanche discusso cioè non è che ce l'hanno bocciato non ne hanno neanche parlato con Renzi presidente del semestre europeo e io penso che chiunque di voi estratto a sorte in questa sala avrebbe ottenuto di più dalla mafia di Bruxelles rispetto allo zero che ha ottenuto Renzi e questa è una battaglia che noi faremo da nord a sud per difendere il lavoro della nostra gente lo diceva il professore lo dicevano Siri, Borghi, Leo è una questione di mentalità perché la sinistra dice tu sei più fortunato di me boom ti seguo le gambe e quindi la tassa sulle barche ma le ricordate adesso fotto quelli che hanno gli yacht facciamo la tassa sulle barche chi è che ci ha rimesso quello che aveva lo yacht a Trieste l'ha spostato in Croazia quello che ce l'aveva a Imperia l'ha spostato a Monte Carlo quello che ce l'aveva in Sardegna l'ha spostato in Corsica ci hanno rimesso alcune migliaia di posti di lavoro gli operai dei porti gli operai da 800 euro al mese per fotteri ricchi la sinistra ha lasciato a casa migliaia e migliaia di poveri vi par normale se uno è ricco perché è una cultura basata sul sospetto e sull'invidia se uno è ricco perché è bravo viva il ricco perché è bravo se uno ha la macchina bella perché se l'è comprata onestamente viva la macchina bella io parlavo con un proprietario di una decina di concessionari di auto e ci sono tutti quelli che hanno auto di grossa cilindrata ma con lavori assolutamente certificati e bonificati che le stanno ridando indietro ed escono con la punto usata così almeno farò sì la figura del barbone ma non mi fermano non mi fermano e quindi preferisco fare la figura io tutti noi abbiamo la macchina deve andare poi qualcuno piace farsi vedere ma siamo alla punizione a prescindere quindi tu se hai il BMW o il Mercedes sicuramente qualcosa l'hai sbagliato e anche se non l'hai sbagliato entra il professore in un sistema fiscale tale per cui hai sbagliato lo stesso perché perché hai sputato per terra o non hai spento la sigaretta nel posa cenere giusto o non fai la raccolta differenziata a casa tua quindi io ti fotto perché in questo momento lo Stato italiano se vuole ti massacra poi ti dà ragione dopo vent'anni ma intanto tu l'azienda l'hai persa e quindi è una questione in mentalità di cultura punire i ricchi questi puniscono sulla carta i ricchi fottono i poveri poi però guarda caso chi va a votare alle primarie dei PD i banchieri i finanzieri quelli che hanno spostato lo yacht quelli quindi c'è qualcosa questo vale per la tassa sui risparmi sulle transazioni finanziarie adesso frego quelli che spostano i milioni di euro chi è che ha fregato quelli che hanno 50.000 euro di obbligazioni perché quello l'ha spostato e lo Stato ha incassato di più o di meno aumentando la tassa sulle rendite finanziarie di meno quindi hai rotto le palle ai soliti noti col bel risultato di incassare di meno quindi veramente c'è il Nobel al contrario abbiamo in Italia ma neanche se uno si mettesse di buzzo buono riuscirebbe a infilarle io ogni tanto ho il dubbio che siano pagati per farci fallire perché non è possibile infilarne ma come ma come per l'Imu sui terreni agricoli di montagna adesso c'è già l'agricoltura in ginocchio gli facciamo pagare l'Imu sul terreno agricolo in montagna e come l'hanno valutata professore la montagna hanno deciso che la montagna comincia dai 600 metri vabbè uno deve mettersi opinabile vabbè 599 metri non è montagna 601 metri è montagna ma qual è il bello che ci sono interi comuni in Lombardia che sono interamente montani ma hanno la sede del municipio a valle e loro come le calcono i 600 metri sull'estensione del comune o sulla sede del municipio sulla sede del municipio e quindi io invito i sindaci della Lega che hanno la sede del municipio sotto i 600 metri a trasferirli in baita a prendere la teleferica a trasferire la sede del municipio in baita così diventiamo comuni di montagna ma è veramente uno Stato che costringe anche se sei la persona più onesta del mondo ti viene voglia di fotterli perché uno affronta di una roba come questa e il grande successo del PD è che l'hanno rinviata a metà gennaio professore perché qua quando hai un problema e non sai come risolverlo lo rinvii di un mese quindi nel nome della certezza delle imposte che sono sacre per l'imprenditore buh guarda ti remi innanzi per un mesetto poi ne riparliamo a gennaio magari la spostiamo al 7 febbraio magari facciamo 618 metri ci mettiamo d'accordo tu sì tu no tu sì tu no è una follia io penso che chi fa impresa deve avere la certezza quando apre l'azienda il primo gennaio deve sapere che fino al 31 dicembre non cambia niente il grande merito dell'aliquota fiscale unica è che tu apri il primo gennaio il tuo negozio la tua impresa e sai che nessuno fino al 31 dicembre ti cambia le carte in tavola altrimenti è un casino altrimenti è un casino e poi ci sono a costo zero alcuni altri provvedimenti vi pare che in un momento di crisi economica come questa noi abbiamo deciso noi che siamo la formica abbiamo deciso ciao com'è che mi faccio del male dichiaro guerra all'elefante e quindi facciamo le sanzioni contro la Russia siccome già ho un'economia solida siccome ho un'occupazione in crescita siccome ho un prodotto interno lordo che schizza faccio la guerra alla Russia perché c'è un pezzo di Ucraina che non si è capito neanche dove sia dove mi dicono che sono entrati i carri armati russi poi fa niente se i nazisti stanno dall'altra parte e sono loro che stanno espelendo gente che è russa da decenni decenni e decenni e quindi facciamo la guerra alla Russia e quindi vuol dire io sono andato due volte a Mosca non per portare a casa quattrini come qualche fenomeno ha scritto ma per dare una mano a quelle migliaia di imprenditori italiani soprattutto lombardi che ci hanno messo 10-15 anni per entrare in un mercato difficile come questo e per colpa di qualche cretino che sta a Bruxelles e di qualche pavido che sta a Roma stanno perdendo milioni di euro di fatturato noi quest'anno rischiamo di smenarci 5 miliardi di euro io toglierei le sanzioni contro la Russia domani mattina perché con la Russia si dialoga e si commercia non si gioca la guerra perché è molto 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 pericoloso perché è molto 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 pericoloso l'uomo al centro dicevamo e vado a chiudere l'uomo al centro l'uomo e la donna al centro che hanno diritto di lavorare per vivere non di vivere per lavorare e quindi per quanto mi riguarda l'obbligo ad esempio al lavoro domenicale nei centri commerciali è schiavismo non è scelta di lavoro quella è una nuova forma di schiavitù perché tu lavori per poter dedicare qualche ora della tua vita a quello che ti circonda a leggere un libro a ascoltare un disco a fare una passeggiata a andare nella barca che intanto hai spostato in Croazia e quindi non è che devi crepare sul posto di lavoro per poter chiudere in pareggio quindi noi dovremmo mettere al centro anche i diritti della persona dell'uomo e della donna che hanno diritto ad avere una vita al di là dell'oppressione fiscale ma per questione di giustizia di equità come in uno stato normale professore se ci sono imprenditori agricoltori artigiani e cittadini che hanno subito un terremoto o un alluvione non devi pagare le tasse un paese normale se sei stato colpito dal terremoto o dall'alluvione non ti fa pagare le tasse perché non puoi pagare le tasse e invece anche qua stanno arrivando in Liguria in Emilia in Toscana le cartelle di Equitalia e qua dovremo anche organizzare delle squadre disarmate e democratiche di dissuasione di autodifesa perché non è possibile che Equitalia arrivi anche a casa di chi ha spalato fango per mesi e mesi perché non è moralmente non è moralmente corretto io ringrazio Armando ringrazio Alvin ringrazio voi per la pazienza e spero che voi da oggi pomeriggio voi come chi ci sta ascoltando via web o via radio domani siate dei moltiplicatori perché i telegiornali ci dicono che questo sarà il Natale più triste degli ultimi anni e ci credo e ci credo metti insieme tutto quello che hai scritto come fai a essere sì sarà Felice Marchione Felice Montezemolo però gli altri tendenzialmente non sono esattamente sulla stessa sulla stessa barca quindi mi servite ci servite come moltiplicatori di idee antirassegnazione perché il nemico più pericoso non è Renzi non è Grillo non è la Camusso è la rassegnazione dire non si può è così e quindi no si può si può volendo si può quindi portiamo questo messaggio non la buona novella per carità di Dio noi abbiamo rispetto a Renzi i piedi più per terra e non ci sentiamo investiti di missioni divine o salvifiche però cambiare si può lavorare si può i giornalisti poi sono appassionati di formule politiche ma quindi allora il centrodestra le primarie Berlusconi gli accordi Alfano non mi interessano le riedizioni del passato non sicuramente chi arriverà a condurre queste battaglie deve guardare avanti e anche il discorso ma perché non l'avete fatto qui e ora i ket nunc adesso se stiamo lì a rimpiangere no ma il Menonu nell'82 quello là è Prodi va bene però ci pagano abbiamo fatto degli errori io in primi sì a voglia chi è che non fa degli errori tra Nirenzi tutti gli altri qualcosa nella vita sbagliano quindi l'importante è è ragionare dell'adesso qui e adesso non stare lì a rimpiangere ma perché allora adesso ci pagano lo stipendio la politica deve dare una risposta domani non l'altro ieri e quindi quello che noi stiamo mettendo sul tavolo lo stiamo mettendo sul tavolo perché crediamo di poterlo fare non per prendere i voti all'opposizione chi se ne frega di prendere i voti all'opposizione noi vogliamo fare quello che stiamo andando a dire con chi con chi lo deciderà la storia nelle prossime settimane nei prossimi mesi lo decideranno i cittadini ecco l'unica cosa su cui non cambierò mai idea è che sia il progetto che i leader chiunque saranno verranno decisi nelle piazze non verranno decisi da uno da due da tre da quattro perché non devono essere i padani gli italiani i marziani a decidere chi farà che cosa quindi è inutile star qua a pensare adesso io ringrazio Roberto Calderoli perché si fa un mazzo così su un tema che mi provoca l'orchite che è la legge elettorale ma è giusto farlo perché quelli vogliono auto proclamarsi e fermarsi per per i decenni a seguire quindi bisogna seguirli marcarli a uomo pezzo per pezzo però noi abbiamo un progetto che mi permette di dire è più in là di quello che dice Renzi cioè è un progetto anche di cultura di vita non solo di economia la flat tax non è un modello economico l'uscita dall'euro non è una scelta economica sono scelte di vita vivere da persone liberi vivere da persone con orgoglio con dignità con cuore con ecco poi chiederemo a chi è qua e vado a chiudere anche perché è uno stato simpatico quello italiano professore adesso il governo Renzi presuppone l'aumento della benzina ci hanno le clausole il salvaguardia non si capisce però contano di portare a casa sostanzialmente un altro miliardo di euro aumentando di 8 centesimi la benzina a me piacerebbe che qualora al buon Dio gli italiani decidessero che noi tornassimo al governo dobbiamo anche dare dei segnali di serietà ripeto è inutile star lì a pensare al passato qui adesso e domani noi andando a far benzina oggi pomeriggio pagheremo anche fra le altre imposte due lire che non so quanto siano in euro per il finanziamento della guerra in Abissinia del 1935 ora è andata come è andata non è ride ma è è così è così ma stiamo ancora finanziando la ricostruzione del Vajont quindi con che onore al merito però quindi come serietà poi sono numeri magari piccoli però non possiamo far pagare la guerra ad Abissinia ai figli che stanno nascendo in questi giorni ma per serietà non per macroeconomia quindi sarà importante anche dare quei segnali io vi ringrazio perché in questo anno ne sono successi tutti i colori ma siamo in salute fisica e mentale come come nessuno avrebbe potuto pensare magari noi sì fuori qualcuno no e quindi penso e spero che sia solo l'inizio di una bellissima avventura che non giochiamo giusto per divertirci io quando vado allo stadio con mio figlio e mi capita di andare a vedere il Milan purtroppo per mio figlio è nato nel periodo sbagliato e quindi gli dico che però Federico non bisogna dire le parolacce e l'arbitro ha sempre ragione l'esatto di quello che faccio io quando vado da solo allo stadio però quando c'è lui non bisogna dire le parolacce e l'arbitro anche se non vede un fuorigioco di sette metri però l'arbitro è l'arbitro in quanto tale va rispettato e gli dico che anche se perdiamo l'importante è partecipare cosa in cui non credo assolutamente perché perché partecipare è bello però tendenzialmente se anche se vinci non è che ti fa schifo e quindi e noi siamo qua non per partecipare non per una lega in buona salute che sale io sono contentissimo dei nove consiglieri regionali eletti in Emilia in Romagna ma il difficile per loro viene adesso perché se non saranno cani da guardia alle calcagna delle promesse mancate del PD li mandiamo a casa noi noi cittadini quindi fra cinque anni noi in Emilia Romagna dobbiamo vincere non dobbiamo aumentare di qualcosa dobbiamo vincere e potremo farlo e quindi vi ringrazio vi auguro un buon Natale sperando che non ci sia qualche preside che si offende qua ho visto un pericolosissimo presepe all'ingresso dell'Unione del Commercio anche qua non vorrei che che fossimo indagati per essere troppo vicini a quella che è la nostra cultura da più o meno duemila anni però fa niente passano velocemente le cose per qualcuno e i prossimi mesi saranno i più difficili perché un conto è crescere e un conto è vincere e quindi se ci stiamo vicini anche aprendoci come Lega facendo delle scommesse io e Armando da quanto ci conosciamo non da anni non abbiamo mai fatto le vacanze insieme ma come con Claudio Borghi ci conosciamo da uno due anni a volte vai anche a naso ti può andare bene ti può andare male però se un progetto ti convince come Lega dobbiamo avere anche la forza di capire fino a dove e fino a chi ci dobbiamo aprire con estrema cautela in alcune zone evidentemente visto la cronaca di questi giorni però dobbiamo imparare a contaminarci e a contaminare contaminarci con idee ed energie fresche di altri a contaminare con le nostre idee e energie senza cambiare mai natura siamo e sempre saremo la Lega Nord siamo autonomisti siamo federalisti siamo indipendentisti siamo per la libera scelta dei popoli ovunque il buon Dio li abbia messi sulla faccia della terra quindi sono gli uomini e le donne che devono decidere con chi e perché vogliono stare non possono essere gli stati a dire tu sì tu no tu sì tu no e quindi vi ringrazio ringrazio il professor Rabusca ringrazio Armando ringrazio ciascuno di voi che siete qua in sala ringrazio chi ci ha seguito e mi permetto solo alla fine di 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 acconsentire una richiesta di un nostro militante della della Romagna che è un militante non vedente che perché oggi è Santa Lucia e quindi Santa Lucia per molti bimbi significa festa significa gioia però Santa Lucia è anche la protrettice dei ciechi e dei non vedenti e fra le stranezze professore ci sono fra i risparmi di questo Stato che non sa più dove andare a raccattare soldi al momento a differenza di tutti gli anni precedenti non ci sono 6 milioni di euro per l'Unione Italiana ciechi io penso che uno Stato che va a portare via soldi a chi già parte da un gradino di difficoltà in più è uno Stato delinquente perché risparmia dove vuoi taglia dove vuoi ma non puoi andare a rubare le tasche a rubare nelle tasche di un disabile di un ipovedente o di un cieco totale che magari con quei soldi trova un posto di lavoro o si paga le spese per il cane guida e quindi questi 6 milioni di euro con le buone o con le cattive il governo li deve trovare da qualche parte e deve rimetterli nelle casse dell'Unione Italiana ciechi che non li usa per andare a fare shopping in Monte Napoleone e quindi mi ha chiesto di mettere questa felpa io oggi mi sono messo in giacca e cravatta e l'ho fatto molto volentieri mi tengo mi tengo la camicia però per onorare l'impegno che avevo preso con i ragazzi dell'Unione Italiana ciechi chiudo con la felpa che dice giù le mani dall'Unione Italiana dei ciechi perché perché anche questo significa essere uno stato equo vi ringrazio vi saluto mai mollare potete anche alzarvi in piedi per applaudire Alvin Rabusca grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti